faccelo vedere questo è uno stralo mettilo vicino al viso tu ecco si si guarda vai allora tuo figlio un barbettino è il secondo in questo momento che ho tirato fuori lo lascio andare perché gli ho un po' di strano abbia pazienza buon uomo che pesci c'è insieme c'è un po' di tutto il primo preso appena siamo arrivati un barbo però all'entrano dei pesci strani non so grossi grossi strani che si ricordava antopilio i pesci si si li chiamano quegli bravi li chiamano carassi facceli vedere via ma però sono belli eh ora si cambia posto perché qui troppi zeri c'è stato fatto vero da qualcuno troppi zeri e allora quando uno piglia pesci da qualcuno che ha trafugato a livello di dio un po' che fa venire da cento di chantilly e poi dopo c'è da entrare nell'acqua e uno parte con lo svantaggio no no quelli di chantilly li mettono anche lo sai li metteva il pannolone guarda guarda pure nell'obiettivo sempre buona pesca e comunque ho capito allo spinning io mi roach è un roach ma come mai topilio insieme ci sono barbie e cavena ne prendi roach nemmeno questo si vede che quell'altro va via che stavano facendo i play out mentre io sono qui buongiorno a lei si mi dica mi dica come che è successo oggi oggi è stata una giornata profonda perché conoscendo la postazione non sempre sono così prolifico e devo dire che gliel'ho messo come si dice nel barbox a perfidino al perfidino al perfidino c'è un imposto facile nel posto facile è partito a razzo ha preso subito il posto meglio si è messo in pesca dopo cinque minuti e dopo mezz'ora il buon topilio aveva già raccattato tre pesciotti ecco ti fatto ecco ti fatto questo per dire che il perfidino ha perso anche i play out play out e se ne è andato anche con la vetturina e mi ha lasciato a piedi e se cazzi tu è perché io non ti porto qualcuno può vedere il barbocchio preso e di là una suora mentre sempre con il barbocchio in mano un topilio in corrente fermo. Ma cosa sta succedendo? Ho un'incannata generale con un pesce misero e di là c'è un ragazzino. Purtroppo manca spiassarmi tutto il momento. Tutto il pesce, no? Questa velanina che hai visto è oltre un chilo e mezzo.